Ciao, oggi vi mostro il classico ritrovamento di una carta, ma lo farò in un modo particolare. Ok, mettiamo caso di scegliere questa carta qui. La mettiamo più o meno nel mezzo, più o meno qua, e andiamo a tagliare un mazzo. Ora vado a prendere le carte e faremo un piccolo countdown. Ok, perfetto. Pronti? Quindi 5, 4, 3, 2, 1, ecco qua. Grazie. 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 Grazie.